Benvenuti nel mondo degli orologi Corloff. Corloff, il marchio di orologi di lusso fondato nel 1978 dal francese Daniel Payasser, deve il suo nome al celebre diamante nero, Corloff Noir, uno dei diamanti più preziosi al mondo. Il marchio è noto per la sua artigianalità e per l'utilizzo di materiali pregiati come l'oro, il platino e i diamanti nella creazione dei suoi orologi. Corloff ha anche creato una collezione di orologi dedicata alle donne, chiamata Corloff Lady, caratterizzata da cassa tono o rotonda, quadrante in madreperla e diamanti incastonati. Questi orologi sono pensati per le donne che amano distinguersi per la loro eleganza e il loro stile, ma che non vogliono rinunciare alla precisione e alla qualità degli orologi di lusso. Ma Corloff non si limita alla produzione di orologi di lusso. Il marchio produce anche gioielli, fragranze e accessori di lusso, tutti realizzati con la stessa attenzione ai dettagli e alla qualità che contraddistingue il marchio. In definitiva, Corloff è un marchio di lusso che rappresenta la maestria dell'artigianato e il lusso dei materiali. Gli orologi, i gioielli, le fragranze e gli accessori di lusso di Corloff rappresentano la scelta ideale per chi vuole distinguersi per il proprio stile e la propria eleganza, senza rinunciare alla precisione e alla qualità degli oggetti di lusso.